Possiamo per forzarli a votare i referendum? Sì! Molestate gentilmente amici, colleghi, cugini Regalate bandiere, silenche Anche chi volesse votare no, invitatelo ad andare a votare Invitatelo a votare a votare, ci serve per il quorum Allora adesso abbiamo un intervento sulle lotte internazionali per l'acqua e sulla primavera dei movimenti arabi le cui rivolte affondano proprio le radici nella mancanza dei beni primari proprio come l'acqua Per cui vorrei dare il benvenuto sul palco a un attivista per l'acqua che arriva dall'Egitto Si chiama Halla Shukralla Un applauso enorme! Comrades, friends, brothers and sisters When I was asked by my colleagues from the World Social Forum By my Italian colleagues that I meted there To come to share with you this moment now I had to think a lot about it Can one leave his country in the midst of a revolution? At a time when we are facing great dangers And also great opportunities to move ahead